Antonio Gonella, segretario del Circolo Culturale Baradello. L'ultima volta ci siamo visti a maggio. Avete anticipato il vostro intento, ovvero trasferire dal formato cartaceo al multimediale il brogliaccio delle fogaccia. Com'è andata? È andata bene. Siamo anche contenti di essere qui a raguagliarvi sulle cose che abbiamo fatto. Praticamente siamo riusciti in un tempo abbastanza breve e con delle risorse tutto sommato contenute a fare la scansione di tutte le pagine dei sei libri di cui abbiamo più volte parlato. Queste immagini sono state riversate in un hard disk di un terabyte, scusate i termini ma sono quelli che soprattutto i giovani conoscono. E quindi abbiamo questo scatolone pieno di queste 6 o 7 mila immagini ad altissima definizione che sono la garanzia della conservazione dei contenuti di questo libro. Ora questi libri che hanno bisogno di restauro e di disinfestazione saranno restaurati quindi nei prossimi due mesi, tre mesi procediamo al restauro dei libri in modo che poi questi diventano l'archivio del contenuto ma non sono più necessariamente consultabili per sapere quello che c'è sopra. Con questa operazione ora avete reso accessibile questo importantissimo archivio della storia di Clusone? Sì, lo rendiamo accessibile, lo rendiamo accessibile, lo divulghiamo ma soprattutto garantiamo ai libri una volta restaurati di non doverli più aprire ogni qual volta perché quelli in alta definizione che sono conservati anche loro come un tesoro. E i primi 100 DVD che abbiamo fatto li abbiamo donati a tutti i soci, ultimamente abbiamo avuto dei soci nuovi, ma soprattutto distribuiamo i primi 100, per la verità saranno solo 80 perché i primi 20 ce li siamo dati a noi come soci, magari a fronte anche di un'offerta per contribuire al restauro dei libri, quindi prima fase conclusa, scansione dei libri, restauro dei libri, prima fase della divulgazione. Ecco su queste pagine c'è proprio la storia di Clusone, qui i cittadini e non solo possono ritrovare alcuni passaggi storici, rivedere alcune geste dei propri avi, ci sono gli stemmi delle famiglie, insomma c'è tantissimo materiale. Sì, fa venire un brivido di piacere leggere un libro antico, lo sappiamo tutti, evidentemente non tutti possiamo possedere questi, ma nemmeno una copia anastatica è possibile perché costerebbe troppo, invece il cd consente di navigare sopra, il dvd consente di navigare, cercare quello che interessa e poi come succede quando si naviga in internet, cerchi una cosa ma poi ne trovi un'altra inaspettata e attraverso uno dei libri che è un indice, si può scoprire qualcosa della propria famiglia, qualcosa di una famiglia che si conosce e qualcosa di inaspettato, quindi il libro ha molte sorprese.